Nulla da eccepire, il Givi Borgo è in assoluto la rivelazione del Gironè di Serie D, almeno relativamente a questo primo scorcio stagionale. Otto giornate se ne sono andate, la formazione di Guido Pagliuca si è collocata tra le grandi o presunte tali del campionato. La convincente vittoria sul forte Trestina è un altro biglietto da visita davvero eloquente. Qualche giocatore esperto, gli ex rossoneri Nolè, chapeau per il gran gol del 3-1 il chianese, il difensore Diana, che tuttavia ricordiamo è un 95, e il bombero Ortolini, capocannoniere del torneo dopo la doppietta rifilata agli Umbri. Il resto del Givi è un bel manipolo di giovanotti di belle speranze che si stanno confermando sotto la guida del condottiero di Cecina. A proposito di Pagliuca, nonostante una classifica davvero importante, non parlate di sogni pindarici ed altro, lui rimane molto pratico e tiene un profilo a dir poco basso. In settimana avevo sentito qualcuno che volava un po'. Noi siamo partiti con un obiettivo semplice, che il nostro budget ci pone quell'obiettivo lì, che è quello di salvarsi. Ci manca 25 punti alla servizia e dobbiamo essere bravi a non cambiare l'obiettivo fin quando non la raggiungiamo, perché se no ci facciamo del male da soli, perché poi allora davanti a un pareggio qualcuno storge la bocca, porta attenzione. Noi siamo stati costruiti per salvarsi e questo è il nostro obiettivo. Raffaele Ortolini, 26 anni, calabrese di Catanzaro, è il terminator di una manovra piacevole ed ariosa. La sua stazza fisica, abbinata però ad una bella cifra tecnica, lo pongono nella condizione di poter recitare un ruolo davvero rilevante in questa stagione iniziata col botto. Sono felicissimo, il merito di tutto ciò va al mister, ma soprattutto ai miei compagni, che sono veramente dei compagni straordinari, siamo un gruppo fantastico e veramente ogni partita ci diamo dentro e cerchiamo di dare il massimo e di buttare sempre il cuore al suo ostacolo, perché siamo un gruppo di amici, ci vogliamo veramente bene ed è giusto che sia così.